Il principe Harry e Meghan Markle potrebbero violare l'anello d'acciaio della regina consentendo a una troupe di Netflix di filmare su una proprietà reale durante la loro visita dalla California il mese prossimo.L esperto reale Russell Myers ritiene che la regina abbia un cordone di tipo anello d'acciaio per impedire qualsiasi tentativo da parte dei Sussex di includere il monarca nei filmati come parte del loro accordo Netflix da 100 milioni di dollari, 72 milioni di sterline. Tuttavia, non è chiaro se gli assistenti di palazzo tenteranno di impedire alle telecamere di Netflix di filmare i Sussex nella loro prima casa di famiglia, Frogmore Cottage, che è il luogo in cui Meghan e Harry soggiorneranno durante il loro soggiorno nel Regno Unito.Un consulente per il servizio di streaming ha affermato che la pressione sulla coppia sta crescendo per riprese reali esclusive e le riprese nella struttura forniscono materiale esclusivo e unico.Un consulente statunitense per Netflix ha dichiarato, il Giubileo è il più grande raduno di reali del Regno Unito da anni e significa che Harry e Meghan saranno intorno a tutti.Lontano dalla presentazione pubblica dell'unità tra i marchi, i capi vogliono filmati esclusivi e il loro sogno è avere intuizioni in quel mondo reale mai visto prima. Grazie per la visione! Grazie per la visione!